Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial, un tutorial su come colorare il tessuto in vinile. Può sembrare difficile, ma in realtà è molto semplice. Io, in questo caso, ho realizzato un pantalone di colore nero. Voi potete utilizzare qualsiasi colore, la tecnica è sempre la stessa. Come ben saprete, il vinile è un tessuto in PVC che riflette molta luce. Per realizzare questo tessuto dovete colorare la base con un marker lasciando alcuni spazi bianchi. Con un pastello bianco ho sfumato i bordi delle zone bianche. Ho utilizzato la penna in gel bianca per realizzare delle zone piccole in cui la luce è maggiormente riflessa. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Sempre con il pastello bianco. Ho colorato alcune sezioni restando molto leggera. Non dovete fare molta pressione con il pastello, perché non devono essere sezioni bianche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il pastello nero l'ho utilizzato per intensificare il colore, per dare quella sensazione di lucido. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.